Ave Maria piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno è Gesù. Ave Maria piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno è Gesù. Ave Maria piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno è Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per tutti i padoni, adesso è l'entura della nostra morte, amén. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, amore, amici, ormai, sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre, amén. L'ho dato sempre sia al Santissimo nome di Gesù, sempre Maria. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, ormai, dicendo tutte le mani, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della Paglia, amén. Ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave, ave Maria. Nel terzo mistero del Galio si medita la nascita di Gesù, bambino, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane, il tuo regno, e vi metti a noi i nostri debiti, come noi vi diventiamo ai nostri debitori, e non ci torna in tentazione, ma l'incarci dalle male. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amén. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amén. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amén. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amén. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amén. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amén. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno. documenti riservati, finiti sugli organi di stampa. La tua presenza in quel paese, ha detto ancora il Cardinal Bertone all'annunzio apostolico, costituirà un costante richiamo nella vicinanza del successore di Pietro alla Chiesa e alle popolazioni di quella cara nazione. Di lui, ha proseguito, dovrai con prudente azione pastorale rendere visibile la paterna sollecitudine per tutti gli uomini di buona volontà, come pure la sua ansia, la sua ansia per la pacifica convivenza dei popoli. La sua ansia per la pacifica convivenza dei popoli. La sua ansia per la pacifica convivenza dei popoli. La sua ansia per la pacifica convivenza dei popoli. La sua ansia per la pacifica convivenza dei popoli. La sua ansia per la pacifica convivenza dei popoli. La sua ansia per la pacifica convivenza dei popoli. La sua ansia per la pacifica convivenza dei popoli. La sua ansia per la pacifica convivenza dei popoli. La sua ansia per la pacifica convivenza dei popoli. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.